Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi siamo qui con la seconda puntata della rubrica Laudato sì, la profezia dalle comunità inserito nel programma Omnibus. Abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi Cristina Simonelli che ha presieduto il coordinamento delle teologhe italiane dal 2013 al 2021 e che attualmente insegna teologia patristica a Verona. Ciao Cristina e grazie di aver dato di nuovo il nostro inizio. Ciao Ines, un caro saluto a te, ai tecnici e a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano in questo nostro secondo radio. Noi avevamo iniziato a parlare appunto di Laudato sì, tu ci hai dato le prime linee guida generali nella prima puntata e ci hai raccontato anche di come tu abbia interiorizzato l'esperienza della Laudato sì, in qualche modo l'abbia anticipata stando dalla parte dei poveri e vivendo in quelle che Papa Francesco definirebbe le periferie cristali. Tu hai vissuto 36 anni in un campo roma nelle roulotte, quindi hai diciamo anche uno sguardo diverso sul mondo anche rispetto a questa bellissima enciclica. Oggi andiamo un po' più a fondo nella questione e parliamo dei macro e dei micro fenomeni che in qualche modo sono interconnessi anche non solo alla ecologia ma alle politiche mondiali e internazionali. Io vorrei partire proprio da un paragrafo del Laudato sì, il 197, in cui Papa Francesco scrive che abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, che porti avanti un approccio integrale includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Ecco, di crisi oggi rispetto a quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, ma in generale nei vari rapporti della politica internazionale, noi oggi avremmo tanto da discutere. In base proprio agli spunti che provengono dalla Laudato sì, ci vuoi spiegare secondo te su quali basi è possibile oggi parlare di un approccio integrale della politica? Sì, infatti questo è un altro degli aspetti, dicevamo già nell'introduzione, è un altro degli aspetti che caratterizza l'enciclica, cioè nella connessione di tutti i fenomeni in quel quadro che era stato fatto, un aspetto rilevante è quello di non tralasciare nell'aspetto macro geopolitico in senso largo, né quello micro, cioè delle politiche nazionali, locali, fino alle cooperative e alle pratiche come vedremo e com'è diciamo l'ottica generale di questo vostro ciclo di trasmissioni. Perché quel passaggio, 197 appunto una politica che abbia una visione ampia che cosa sta a significare, che cosa sta anche a purtroppo, dobbiamo dire, purtroppo testimoniare questa ulteriore crisi così vicina anche geograficamente, che non si possono, non si può pensare di osservare e di agire sulle cose o non agire peggio ancora, in termini separati. Per cui una delle caratteristiche anche di questo testo appunto è di riprendere ad esempio anche le diverse conferenze sul clima internazionali che erano state fatte. Come è noto, ricordiamo, ha ormai sette anni l'enciclica, era stata fatta in vista della COP21 di Parigi, ma riprende anche le precedenti, parla in particolare di quella di Rio de Janeiro e dice bellissimo testo, peccato teorico, cioè peccato che non abbia avuto il passaggio dall'idea alle pratiche. Come si fa a passare dalle idee alle azioni trasformative? Si fa, si può fare, bisognerebbe cercare di farlo, evidentemente le cose non sono automatiche, sarebbe troppo semplice, facendo attenzione che ad esempio i grandi meccanismi mondiali, ad esempio il debito, i cui interessi, non neanche il debito, gli interessi del debito crescono in maniera continua ed esponenziale, i paesi ricchi hanno sfruttato i paesi poveri, gli hanno fatto un prestito, il prestito agli interessi, gli interessi si quadruplicano, si moltiplicano e questo è un sistema iniquo, ha coniato anche nella sua italo-spagnolo diciamo l'idea di inequità e si potrebbe dire anche ingiustizia, ma proprio il meccanismo della inequità è chiaro. Allora se non c'è un modo per una governance mondiale dei fenomeni, delle plastiche, della riduzione delle emissioni, non semplicemente molto su questo, i popoli ricchi possono pagare, cosa fanno? Noi sporchiamo, facciamo scorie, immondizie, li mandiamo a riciclare in posti più poveri o dalle politiche locali più facilmente acquistabili, diremmo, corrompibili, ma c'è anche il corruttore oltre al corrotto, li mandiamo lì e li diciamo beh vabbè potete pagare una piccola tassa o questo qua è ingiusto, è un'ingiustizia macro che poi diventa un'ingiustizia anche altro aspetto transgenerazionale, perché la nostra generazione, purtroppo mi ci devo assolutamente mettere in fase di avanzatissima maturità, sta consumando i beni, cosa che non vorrebbe mai fare, dei figli e dei nipoti, nessuno vorrebbe farlo, però è questo. Quindi le grandi azioni della politica internazionale come si fa a tenerle sotto controllo? Cercando di spingere, cercando di muovere l'opinione pubblica, lavorando anche con i social, preparandosi, studiando i modelli di sviluppo, perché un modello di sviluppo che vede il mondo e lo pensa da una parte un deposito infinito di beni, dall'altra un'infinita pattumiera, è un modello che va cambiato, dunque c'entrano gli economisti, c'entrano i filosofi, c'entrano gli ambientalisti tutti insieme. Poi un altro aspetto ad esempio che impatta sulle guerre è l'aspetto appunto della finanza economico, ma è anche il commercio delle armi, questo lo dobbiamo dire, ci sono tanti studi, è evidente sotto gli occhi di tutti, l'Italia che abbiamo questa idea di noi un po' romantica come popolazione mandolino e pizza soltanto, però siamo dei grandi produttori di armi e c'è un livello della politica adesso non solo internazionale ma anche nazionale che deve agire per diminuire, invece in questi anni la rete disarmo ce lo dice, in Italia è aumentato con la crisi, con la pandemia, è aumentata la spesa in armamenti, no, questo bisogna dire no, altrimenti sono discorsi una mano parla e l'altra fa il contrario diciamo e questo però ha poi delle ripercussioni anche a livello locale perché la politica è internazionale, i meccanismi sono più complessi però anche le politiche nazionali possono agire, l'opinione pubblica può agire e poi c'è quel livello nazionale dove abbiamo le risorse, come facciamo la transizione ecologica ed energetica, dove abbiamo le basi militari e non le vorremmo, da dove prendiamo l'energia e poi anche il livello della politica locale e il testo è molto attento, locale vuol dire delle regioni, vuol dire dei comuni, vuol dire a volte anche delle piccole cooperativo delle realtà associative e delle famiglie. Sì è bellissima questa interconnessione che tu sottolinei tra il rapporto tra locale e glocale, cioè in qualche modo come la politica che noi sperimentiamo tutti i giorni nei nostri comuni, nelle nostre città, nelle province, regioni eccetera, alla fine abbia sicuramente una ripercussione a livello un po' più ampio, in questo senso la laudato sì ci invita a manifestare una politica della vigilanza, ad essere i custodi dei nostri custodi, ma la finanza resta nonostante l'impegno dell'economia civile, del voto col portafoglio, quindi di queste buone pratiche che comunque vengono in atto da pochi, si spera sempre da più persone, resta però la finanza una spina nel fianco per la salute del pianeta in genere. Tu prima giustamente parlavi del commercio ad azione delle armi, anche Papa Francesco ha detto che non si può parlare di pace se si producono armi, quindi quali indirizzi potrebbe suggerire la laudato sì per ristabilire un'economia nuova che riesca a mettere al centro della scena i più deboli? Diciamo il testo fa tanti tentativi di dire, io direi che una questione è anche quella, diciamo così, provo a dirla così, io poi appunto sono anche io molte volte angosciata su queste questioni, nel senso che per quanto si provi molte volte si sperimenta anche la scarsa efficacia di quello che si cerca di fare, la difficoltà di uscire da un meccanismo molto forte, molto opprimente, però diciamo si potrebbe parlare di una, se c'è una globalizzazione e una globalizzazione in tutti i sensi dovrebbe rispondere una messa in comune, diciamo una diversa globalizzazione, messa in comune di tutte le risorse, perché qui come l'analisi ha riguardato tanti aspetti, anche la risposta deve essere multifattoriale, multifattoriale, ad esempio servono, serve diciamo che anche a livello spicciolo, come mi metto anch'io, perché io mi occupo di storia del cristianesimo, mi occupo anche di teologia, mi occupo di testi, non sono un'esperta di queste questioni, come hai detto ho vissuto nelle periferie, vedo quegli aspetti, ma non sono un'esperta di tutti gli altri, è bene che anche a livello spicciolo, un po' come si faceva, fanno ancora forse molti studenti, a fare dei laboratori, dei laboratori nei quali si impara, si impara confrontando le opinioni, si impara a discutere anche i modelli di sviluppo, in questo il testo è molto attento, non basta fare una piccola azione, oppure acquistare giustamente, ma con attenzione, con attenzione al chilometro zero, anche all'economia solidale, circolare, ma anche facendo attenzione che purtroppo ci sono delle modalità che timbrano verde, c'è scritto biologico, ah dico c'è scritto biologico, lo prendo, non è detto, ci sono dei parametri da rispettare, ci sono delle informazioni da prendere e questo appunto deve essere fatto, è importante che venga fatto a livello capillare, a livello delle scuole, nell'ecologia integrale, questa è una delle questioni che viene spesso sottolineata appunto il tema dell'ecologia integrale, l'ecologia integrale è anche un tratto educativo e pedagogico, anche a rovescio perché sono i giovani che in molti casi ci stanno dicendo ma svegliatevi cosa avete fatto, se 50 anni fa potevate dire non lo sapevo, si può più dire non lo so, però reciprocamente anche nell'insieme dell'educazione e questo vuol dire fare anche nella scuola, anche nel catechismo, non solo questi aspetti ma tutto questo centra, cioè farne dei laboratori attivi o ci sono delle, adesso la pandemia, questa sarebbe un'altra questione molto importante, c'è un libro che ho trovato molto interessante di Ilaria Capua, la virologa, a me piace molto Ilaria Capua per la sua idea di mettere in comune i risultati della scienza e anche per quello che diceva nel massimo della pandemia in Italia quando parlava della rosa quadrata, parlando dell'importanza dell'azione delle donne, senza romanticismo ma guardando cosa forse più donne che uomini in qualche caso hanno fatto come attenzione alle relazioni, beh lei parla anche della pandemia come di uno stress test e tutti avremo visto, c'è lì a Santiago del Cile che con quella famosa frase non volveremo alla normalità perché la normalità era il problema, è praticamente un dialetto che possiamo capire, non vogliamo tornare alla normalità così com'era perché abbiamo visto che la normalità è un problema, è un problema il modello con cui in alcune zone più che in altre teniamo gli anziani e poi ci facciamo anche il romanticismo però insomma vuol dire pensare anche ai modelli e certamente in questo modo c'è anche un discorso che va a impattare anche la consapevolezza che bisogna imparare da chi lo sa avere sulle realtà ad esempio dei comuni trasformativi, la stessa Ilaria Capua dice che ogni grave crisi lo è la guerra e Dio sa se è una cosa orrenda che gli umani siamo tra gli animali peggiori che c'è in questo mondo ma anche la pandemia sono degli eventi anche trasformativi, certamente sono degli eventi drammatici, se li assumiamo anche come trasformativi possiamo cercare di imparare, di imparare nuovi meccanismi di solidarietà, di trasparenza, di condivisione e di riflessione. Tu prima Cristina dicevi io non ho competenze in questo settore perché ovviamente il tuo indirizzo di interesse, di studi è un altro e vai in un'altra direzione ma io ho voluto lanciarti volutamente questa provocazione perché si può parlare dei poveri perché da qui ripartiamo solo se i poveri li si conosce e in questo senso mi sento di dirti che forse tu sei più titolata di chiunque altro a ragionare su queste questioni perché le hai vissute e le vivi sulla tua pelle. In questo senso ti faccio un'ultima domanda per anticipare quello che poi sarà il tema della nostra terza puntata e cioè i micromodelli di come all'indomani dell'uscita di questa enciclica sono sorte delle opere segno potremmo dire della Laudato Si che sono proprio le comunità Laudato Si. Ecco tu hai esperienza di comunità Laudato Si vuoi dirci da cosa prendono vite o prendono esempio? Sì certamente proprio è stato diciamo uno dei grandi risultati adesso provo a dire perché uno dei grandi risultati dell'enciclica la Costituzione poi moltiplicatasi di comunità in qualche caso li hanno chiamati anche presidi Laudato Si perché dico fra le tante cose è stato molto utile molto interessante l'idea comunità dà più sulla collettività e sulla affabilità però anche la parola presidio aveva un suo perché anche se ha qualche leggera sfumatura diciamo militante perché vuol dire non faccio un'azione ogni tanto mi costituisco a custodia mi costituisco a vigilanza mi costituisco come perno che tenga il più possibile l'informazione la formazione l'azione e la custodia di un territorio che come dicevi tu prima e come diceva dice anche l'enciclica è sempre connesso a tutti i livelli e io allora ne ho avuto esperienza trasversalmente in Italia in maniera che ho trovato veramente interessantissima e fra le altre anche una comunità che si trova in campagna ad Avella si chiama comunità laudato si e ha fra le varie caratteristiche che condivide con tante altre comunità quella di essere anche su di struttura abbiamo detto glocale qua direi spirituale di tante spiritualità un'altra connessione perché riesce a tenere insieme a convergere nel lavoro una grandissima spiritualità che possa avere un tratto anche ecclesiale anche i vescovi diocesi di Nola Avella provincia di Avellino non lontano da Napoli quindi al cuore diciamo di un'intera regione e avere un rapporto ecclesiale ma anche la partecipazione di persone che hanno un credo laico perché le cose troppo chiuse a me proprio già non mi piacciono mi sembrano già destinate a fallimento e non mi sembrano nello spirito della laudato si ultimamente stanno collaborando anche ma magari ci sarà occasione di ridirlo meglio sia con l'osservatorio per l'economia circolare della Campania sia con la Università della Pace di Macerata quindi mettendo insieme comuni trasformativi dell'Empinia dove si parla di coltivazione biologica del grano dove si parla di lavoro sostenibile di chilometro zero di salute di miasmi cose di questo genere con i grandi temi appunto geopolitici praticamente un grande risultato e con grande stima di laudato si. È un bene che ci siano questi esempi sui territori e che veramente attuino e mettano in pratica quelli che sono gli insegnamenti veri e assolutamente realizzabili della laudato si. Tu hai citato la comunità il presidio della laudato si di Avella ce ne sono tantissime altre in Italia e tutte hanno sicuramente delle buone pratiche da offrire e da in qualche modo fare mulare. Io ti ringrazio ancora Cristina per la tua presenza, la tua testimonianza di vita, di teologa e di donna di grandatura quindi grazie per essere stata qui anche oggi. Grazie, grazie a te, grazie ai tecnici, grazie alla pazienza degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Un saluto a tutti e alla prossima puntata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.